nelle mie condizioni fisiche non sono ancora andato sul lungo tevere e quindi da casa mentre curo una malattia che spero si allontani da me il più presto possibile ma vivendo comunque nella difficoltà di cure che sono quotidiane non sono andato a fare la passeggiata per vedere quello che state vedendo ma in fondo l'avete visto ci sono stati altri che sono andati dal amico cristiano aresu a salvini e forse anche a persone che avevano volontà politica ma semplicemente un'indignazione personale per vedere quello che sta capitando qui dove c'erano san pietrini dove c'era ai tempi di veltroni un leggero velo per prendere la strada meno impervia per le biciclette con l'eroismo che vuole fare la pista ciclabile più lunga del mondo la sindaca di roma la regge raggi come si chiama ha pensato di fare questa saltatura ridicola penosa che è una violenza a un luogo che ha la sua perfezione mi auguro che dopo la denuncia alla procura la sovrintendenza per prima e anche i magistrati si muovano per cercare di come dire cacciare forse non dobbiamo venire cacciare se ne andrà da sola qualcuno avrà anche il coraggio di votarla una persona che non solo ha consentito che fosse umiliata roma approvando le indicazioni di un magistrato una specie di visionario che si pignatone che ha parlato per tre anni di mafia capitale per avere la gloria di combattere la mafia anche a roma ma dopo aver lodato questa violenza contro roma ha pensato di farlo a lei direttamente fare quello che soltanto la mafia potrebbe fare cioè asfaltare un lungo marciapiede con i san pietrini che vedete bene che ha una storia per fare questa questo nastro schifoso di bitume che è la misura di una mente ottenebrata ecco non credo che occorra molto se ne accorto ovviamente l'ha detto che calenda i candidati che siamo oggi calenda io e la raggi devono comunque misurarsi con quello che il sindaco oggi sta facendo che è questo non solo come dire annunciando che non lo faremo mai che cercheremo di riparare l'errore ma dicendo com'è possibile fare una cosa di questo genere com'è possibile com'è possibile violare un luogo incontaminato attraverso questa follia questo nastro di bitume com'è possibile com'è possibile e riempirsi la bocca la bocca di mafia capitale questo è quello che la mafia fa essere indifferente alla bellezza e violarla per puri interessi non saprei quale in questo caso ma forse l'interesse di dire noi facciamo la più bella pista ciclabile del mondo ma andate al diavolo dico al diavolo comunque fuori dalle palle